Allora amore, oggi è San Valentino. Cos'è San Valentino? Te lo spiega papà. San Valentino è la festa dell'amore. Per questo in giro è pieno di cuoricini. I cioccolatini a cuoricino, i palloncini a cuoricino, i fiori a cuoricino. E devi comprarli i cuoricini, se no vuol dire che non sei innamorato, no? E stasera gli innamorati vanno fuori a cena. Con la forchetta a cuoricino, il tavoglio a cuoricino, pure il conto è pieno di cuoricini. Danno certi cuoricini figlio mio stasera a cena che a me l'anno scorso per poco non si ferma. Ma la gente non ci pensa. Paga i cuoricini perché si ama. Il 14 febbraio la gente si ama tutta da morire. Comincia la mattina ad amarsi e finisce la sera. Perché che se ne dica papà, c'è ancora tanta gente che si ama facendo le corna. Facendo le corna nel senso che non che si ama e si fa. Un giorno capirai amore. Grazie. 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 Grazie.